buonasera e bentornati da capezza 72 il video di questa sera non sarà un video come i soliti nostri video tutorial ok ma sarà un video informativo un video informativo e pre-selectivo perché di che cosa adesso abbiamo in mente un nuovo progetto un progetto veramente veramente importante come abbiamo appena detto stiamo lavorando ad un nuovo progetto un progetto come ha detto anche raida è veramente veramente importante in che cosa consiste questo progetto vai raida vorremmo presentare un film nell'ottobre 2018 al cine festival quindi stiamo cercando appunto persone che possono fare figliattori chi magari si operava per l'audio chi magari si operava per le riprese un po per tutto quanto diciamo la regia sarà compito nostro servirà chiaramente un fonico servirà un cameraman che verrà in aiuto e diciamo che il nostro lavoro perché noi ci occuperemo principalmente ecco della regia della coreografia e della storia di tutto quello che sarà il progetto fondamentale dall'inizio alla fine però oltre a servire del personale serviranno veramente degli attori e attrici perciò questo video che noi stiamo facendo e verrà inviato se voi state vedendo questo video evidentemente già siete stati candidati poi sarà a voi se accettare o meno però ragazzi dalla ricezione di questo video facciamo almeno 15 giorni di tempo grosso modo diamo qualche anteprima su quello che dovrà essere questo film parlerà molto dei vostri problemi però adesso stiamo facendo un po un tira e molla sul tipo di trama abbiamo già in mente un paio di progetti perciò questo video vi è arrivato tramite email tramite whatsapp perciò se voi avete piacere dopo aver visto questo video di contattarci lasceremo le nostre mail qui sotto e niente vi rivolgete direttamente a me o a riders per dire sì mi interessa di che cosa si tratta perché poi ci saranno varie location il film avrà una durata tra gli 80 e i 90 minuti perciò abbiamo grossomodo un anno a disposizione che sembrerà veramente tanto ma sostanzialmente non è molto tempo sì perché bisognerà girare principalmente nei ritagli di tempo o nei pomeriggi o nei sabati e domeniche forse anche qualche giorno di festa comunque per chi fosse interessato ripetiamo lasciamo anche nel box sotto delle informazioni ulteriori informazioni e poi niente ci fa piacere a chi veramente interessa e crede in questo progetto noi ci crediamo e vogliamo che ci credi anche tu perciò per adesso è tutto ciao da capezza 72 è un grande saluto dalla studio art 04 ciao grazie a tutti grazie a tutti